Buonasera, buonasera, buonasera Contentissimo per il risultato Molto, molto, molto contento Perché poi Si dirà, lo so già L'Inter l'anno scorso queste partite Non le avrebbe vinte Che poi non so quanto possa essere vero Ma fatto sta che da un punto di vista del gioco Veramente penosi Salvo poco o niente Di sta partita Voglio dirlo senza mezzi termini Non è che sto facendo, voglio fare il critico No, ma ti stai nella mente Non mi lamento Sono contento, per carità Creo anche degli alibi Perché voglio crearli, siamo al primo di settembre La squadra magari in una condizione fisica Poco stabile Scarica, perché questa Quella vista stasera è una squadra scarica Quindi anche giusto volendo Creare degli alibi Però analizziamo sta partita qua Ti devo dire che l'Inter non ha giocato bene Non posso gridare ai 7-20 Oh che partita che abbiamo fatto Che bello abbiamo vinto Sì, è bello Tutto bello Ma abbiamo giocato male Non bisogna nascondersi Una squadra che dal primo all'ultimo minuto Non ha mai cambiato ritmo Non ha mai messo un'altra marcia Giocato con la prima Con la prima All'inizio e alla fine E portata a casa la vittoria Ben venga Ma in futuro con altre squadre Con tutti i rispetto per il Cagliari Che comunque sarà E' un'ottima squadra C'ha dei giocatori fortissimi Rogue, Nandez Nandez che sarà quel che sarà Perché entra Molte volte a voto Ma è un trattore Nainggolan che ha fatto un'ottima partita Per carità C'ho Pedro I giocatori ce li ha Ce li ha Però E' sempre Cagliari E' sempre Cagliari Con tutti i rispetto Quindi In altre partite Se giochi così Non le porti a casa Non le porti a casa Però Siamo al primo di settembre Tutto ok Va bene Ok 6 punti Tutto a posto Tutto a posto Ma In questa partita Non ho visto l'Inter di Conte Non ho visto una squadra con grinta Con carattere Con Non con carattere Alla fine Con grinta E con ritmi Con pressing Con Cattivi sul pallone Cattivi nel senso agonistico Cioè Non l'ho vista sta roba qua Non l'ho vista per tutta la partita Ed è molto 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 grave Se vogliamo Non lo so Magari Durante la settimana Esagerato con gli allenamenti Magari questa è una condizione fisica precaria Sicuramente Non lo metto in dubbio Perché Altrimenti non mi spiego Come La squadra Sia stata così molle Così molle E anche Prendi Lukaku Lukaku Per tutta la partita Poverino Cioè Proprio impacciato Lo vedevi molto Con il Lecce Ha provato qualche In modo straripante Ha provato a trascinare un po' la sua Ma qua non ha fatto un'accelerata Un'accelerata Una Non l'ha fatto in tutta la partita Segno che secondo me Fisicamente la squadra stasera Era veramente Ma veramente a terra Veramente Salvo Skriniar Che ha fatto un partitone Ma veramente assurdo Asamoah Asamoah Ora Ora si darà a Sensi Il migliore in campo Ed è giusto anche così Perché le giocate Le giocate partono da lui E la partita Te l'ha risolta lui Masamoah Ha fatto un partitone E poi veniamo appunto a Sensi Sensi L'Inter ti pente da Sensi Io non l'avrei mai detto Mai Cioè non ci avrei mai Minimamente pensato Che questo ad oggi Sarebbe stato il migliore acquisto Dell'Inter Perché ad oggi Ad oggi Poi vedremo più là Ma ad oggi Sensi È il migliore acquisto Dell'Inter Punto Punto È indiscussa Non si può discutere Il migliore acquisto Ad oggi Perché quello che Se aumenta Se aumenta la sua qualità Nel primo tempo Buio Ma nel secondo tempo Ha cambiato la partita Proprio per le sue giocate L'Inter dipende da lui In questo momento E si vede Si vede Si ha procurato un rigore Con una giocata Paurosa Fantastica Ha colpito la traversa Sui calci di punizioni Batti il calcio d'angoli Dà qualità A questa squadra Dà qualità Passaggi nello stretto Qualcosa l'ha sbagliata Ripeto Nel primo tempo Ha sbagliato anche lui È poco incisivo Ma Ha giocato bene Cioè Ha cambiato lui Un po' di ritmo La squadra Ha iniziato a creare qualcosa Assolutamente sì Assolutamente sì Lì davanti Lautaro bene È entrato Politano Anche lui abbastanza bene Però ripeto Candreva Candreva è ritornato Di nuovo Di nuovo nell'ombra È andato di nuovo nell'ombra Vedremo un po' Però un po' tutti Diciamolo Diciamolo un po' tutti Voglio Voglio E trovo anche un po' Lo faccio anche un po' Da faziosi In questo caso Voglio giustificare Col fatto che sicuramente La squadra Fosse scarica Ma questa non è l'Inter Che voglio vedere Questa non è l'Inter Che voglio vedere Non è l'Inter Che mi aspetto Da Conte Assolutamente no Ripeto Ma non è un discorso Anche di qualità Di manovra Ma il fatto che Non hai avuto grinta I ritmi sono stati blandi Dall'inizio alla fine Occasioni da gol Ragazzi Non è creato Parliamoci chiaro Non è creato Occasioni da gol È segnato Grazie Ad una giocata fantastica Di Sensi Nel primo tempo Una Mezza otto gol Gol Poi il resto non lo so Adesso una palla Data da Politano A Lukaku Che la gira Se ne è mangiato E poi boh Quindi poca roba Poca roba Però dietro anche Abbiamo Abbiamo retto bene Bisogna ammetterlo Schirina Mi è piaciuto tantissimo Schirina Mi è piaciuto proprio assai Sul gol preso D'Ambrosio Addormito Cioè D'Ambrosio alla fine Ragazzi Ritorniamo Ritorniamo allo stesso discorso È bravo Si impegna Lo puoi mettere ovunque Il suo lo fa Lo fa Però ogni tanto Va cappellata Te la devi aspettare E questo E questo è il discorso Va bene Va bene Va bene E contenti Contenti Perché hai sei punti In classifica Sei in due partite Quindi Non ti puoi lamentare Sto parlando Al tifoso interista In generale Non ti puoi lamentare Però Dal punto di vista del gioco Qualcosa stasera Non ha Non ha funzionato È innegabile Va bene Un grande abbraccio Me ne vado a dormire Si vado a dormire Ancora devo pubblicare Devo condividere Lo fate Poi su Instagram Devo giochicchiare Quindi seguite me anche su Instagram E poi L'adrenalina della gara Sappiamo bene Però Vediamo un po' Andiamo a riposare Buonanotte 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 Iscrivetevi al canale Iscrivetevi Un grande abbraccio Un grande abbraccio D'alessio D'alessio Grazie per la visione!